Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. La storia di oggi, una piccola storia in realtà di guerra, della seconda guerra mondiale, è una storia poco nota, ma che molti di voi mi hanno chiesto e mi hanno più volte citato durante delle pillole passate, chiedendomi di raccontarla. E' una storia secondo me molto interessante, oltre che per l'avvenimento in sé, come tra poco vedremo, anche perché getta una nuova luce su un fronte, quello medio orientale, che in effetti viene molto spesso dimenticato nella narrazione della seconda guerra mondiale, ma che è comunque molto interessante, anche se non vi sono state delle grosse battaglie, ma solo piccole campagne, quella contro la Siria e il Libano di Vichy, e poi la guerra tra gli inglesi e i ribelli iracheni, di cui ho parlato peraltro nella serie della seconda guerra mondiale, andate a ve la recuperare, è stato però un fronte molto importante dal punto di vista logistico, perché era la base del petrolio, delle risorse, dei rifornimenti, che affluivano verso il fronte africano e che permisero all'Inghilterra di reggere l'urto contro le forze italiane, prima poi quelle italiane e dell'Africa Corps, e di iniziare quella lenta marcia che poi con l'operazione Torcia aveva portato alla liberazione dell'Africa e poi allo sbarco in Italia. In questo scenario, all'inizio della guerra, si andarono a inserire però delle operazioni di guerra condotte da italiani con l'uso di bombardieri, operazioni che gettano una luce decisamente più positiva sulle nostre forze armate e che per la loro organizzazione meritano di essere raccontate. Voi lo sapete, una delle pillole più viste è dedicata all'impegno dei bombardieri italiani nella battaglia d'Inghilterra, un impegno che si rivelò assolutamente un disastro senza precedenti. In effetti, dal punto di vista tecnologico ma soprattutto industriale, il nostro paese si affacciò alla seconda guerra mondiale in gravissimo ritardo rispetto agli altri contendenti, ma soprattutto senza la possibilità di sviluppare tecnologicamente e numericamente le proprie forze armate così come invece gli altri contendenti fecero. Dal punto di vista dell'aviazione quindi avevamo dei grossissimi problemi, nonostante se ci pensate dal punto di vista tecnologico avessimo delle indubbie qualità. Pensate solo a tutti i ride che vennero fatti che mettevano in mostra le capacità quantomeno artigianali della nostra industria, tutte cose che purtroppo non garantivano un alto afflusso di numeri di aerei, carri armati e quant'altro servisse in guerra, ma che di sicuro potevano essere un po' il fiore all'occhiello della nostra industria. All'inizio della guerra, della guerra dell'Italia nel 1940, in effetti i fronti per noi erano esclusivamente due. Il primo fronte era quello francese, dove sapete conducemmo un'offensiva, quando ormai la Francia era già praticamente caduta in mani tedesche, offensiva che fu rintuzzata dai francesi ma che permise, come si dice a Mussolini, di sedersi al Tauro della Pace in cambio di morti italiani purtroppo. Il secondo fronte era invece quello africano, laddove le nostre truppe si trovavano inizialmente circondate con da una parte le forze francesi, dall'altra quelli inglesi, e poi dopo la caduta della Francia, la nascita della Francia di Vichy, con un solo confine con cui combattere, cioè quello verso l'Egitto. Come vi ho raccontato proprio nella serie, inizialmente le nostre operazioni, anche a causa delle difficoltà logistiche, furono decisamente scarse e questo, nonostante anche l'Inghilterra, disponesse in realtà di pochissime truppe, pochissimi rifornimenti, pochissimi uomini, carri aerei, per poter difendere questa zona vitale per il suo impero, perché attraverso il canale di Suez poteva, e farà poi, rifornire le piccole basi rimaste nel Mediterraneo, Cipro e soprattutto Malta, su tutte. Per colpire, però, l'Egitto, esisteva la possibilità di colpire le retrovie di questo schieramento. Perché? Beh, intanto cosa sono queste retrovie? Beh, sono tutta la zona del Medio Oriente, che all'epoca, fatta salvo la Siria e il Libano, che erano invece parte dell'impero francese, che passeranno alla Francia di Vichy, una parte che invece faceva parte dell'impero inglese, direttamente controllata, oppure in alleanza, come gran parte dell'Arabia. L'importanza di queste zone era cruciale, non solo perché erano in retroterra proprio di quelle difese che venivano portate in Egitto, ma perché attraverso queste zone venivano scavati, letteralmente, gran parte del petrolio prodotto per le forze armate inglesi, ma soprattutto giungevano gli oleodotti che proprio alle forze armate inglesi e alla flotta inglese nel Mediterraneo portavano i rifornimenti. Queste basi, inoltre, avevano una particolarità. Fin dall'inizio gli inglesi, infatti, avevano considerato queste zone praticamente incolpibili e se avevano installato alcune difese nella zona ridosso del Mediterraneo, nel mandato di Palestina, come si chiamava all'epoca, avevano invece ridotto, se non completamente eliminato, qualunque difesa nella zona dell'Arabia, perché si pensava che fossero zone non colpibili dagli italiani. Questo, ovviamente, si rivelò un errore ed era esattamente su questo che contarono gli italiani quando invece progettarono una serie di bombardamenti mirati. A progettare e guidare alcuni di questi raid fu Ettore Muti, gerarca fascista, all'epoca arrivato fino alle vette del partito nazionale fascista, grazie anche all'amicizia con Ciano. Soldato, aviatore, che però ben presto, con lo scolpio della guerra, aveva lasciato la burocrazia per tornare sul campo di battaglia. Partire dalla Libia per bombardare quelle zone sarebbe stato molto difficile. Questo perché, se la Palestina, l'Arabia, non erano protette dal punto di vista antiaereo, invece così era l'Egitto e qualora i bombardieri italiani avessero volato sull'Egitto e sarebbero stati facilmente intercettati proprio dalla caccia inglese. Il progetto, quindi, fu completamente diverso. Gli italiani, in effetti, avevano un'altra base. Quell'altra base era Rodi. Voi sapete che al termine della guerra italo-turca del 1911 gli italiani avevano mantenuto il controllo sul dodecaneso che inizialmente avrebbero dovuto restituire poi ai turchi. Non lo fecero. Ci fu la prima guerra mondiale, la Turchia sconfitta e gli italiani avevano mantenuto il controllo sulle isole, tra cui la principale era proprio Rodi. Ebbene, a Rodi avevano installato, tra le altre cose, oltre una base navale, anche un aeroporto. Proprio da quell'aeroporto, secondo i progetti iniziali, sarebbero dovuti partire i bombardieri, il cui primo obiettivo era la città in Palestina, palestinese, di Haifa. Perché Haifa? Perché era non solo un porto molto importante, non solo un centro industriale tra i più importanti della zona, ma era anche sede di una delle raffinerie più grandi di tutto il Medio Oriente, in cui arrivavano gli oleodotti che provenivano dall'Iraq e dove veniva raffinata la benzina che serviva, come dicevo prima, per le forze armate inglesi in Egitto. Il primo attacco, che ho cercato di rappresentare sui due punti, così vedete la distanza, fu portato il 7 luglio del 1940. Parliamo di attacchi molto piccoli, non immaginatevi grossi ride con centinaia di bombardieri, un po' perché l'Italia non disponeva di questi numeri, un po' perché l'obiettivo era quello di colpire prima che gli inglesi potessero prepararli, e quindi in questo caso piccoli gruppi di bombardieri sarebbero forse stati più utili perché più difficili da avvistare rispetto a grossi stormi. C'era inoltre un problema, bisognava riuscire a colpire senza che gli inglesi riuscissero ad intercettare con i caccia, questo perché ovviamente con una distanza così grande i bombardieri avrebbero potuto coprirla, ma non avrebbero potuto fare i caccia e quindi i nostri bombardieri avrebbero dovuto operare senza alcuna protezione. Il primo attacco, portato con degli aerei, con dei Savoia Marchetti SM82, che vedete qui a fianco, fu un grande successo. Gli aerei riuscirono a raggiungere Haifa, nella sorpresa più generale degli inglesi, che non erano assolutamente pronti a un attacco del genere, piombarono sulla raffineria e la danneggiarono fortemente, riuscendo a bloccare la produzione per addirittura un mese e riuscendo a tornare indietro senza alcun danno. Il primo attacco era stato letteralmente chirurgico, tanto che praticamente non aveva causato vittime civili. Così non andò invece al secondo attacco, portato alla fine di luglio. Questo perché gli inglesi avevano capito che ormai Haifa era un obiettivo e avevano iniziato a portare dei caccia che avrebbero dovuto intercettare i bombardieri. Per questo, nella fretta di sganciare le bombe, alcune delle bombe caddero invece sul centro abitato, uccidendo a fine luglio una quarantina di residenti. Gli italiani, una volta resi conto che appunto a questo punto non avrebbero potuto più volare indisturbati, pensarono di rimandare nuovi attacchi, nell'attesa che gli inglesi riducessero un pochettino la guardia. L'attacco successivo fu così portato ad inizio settembre del 1940. Ancora una volta gli aerei guidati da muti partirono, anche questa volta circa una decina, da Rodi sorvolando il Mediterraneo puntando su Haifa. Nonostante fossero passati alcuni mesi, però gli inglesi li stavano aspettando. E così, quando i bombardieri furono nei pressi della costa palestinese, li intercettarono e iniziarono ad attaccarli. A questo punto gli italiani non sapevano che fare. Il rischio per arrivare ad Haifa era troppo alto. Il rischio era quello di vedere tutti i bombardieri abbattuti. E così ricevettero dal comando un nuovo ordine, cioè quello di non spingersi fino ad Haifa nel sud, ma di attaccare piuttosto Tel Aviv. Città fondata, tra l'altro, non da tanto, da 1909. Era una città ebraica, fondata dalla migrazione ebraica in Palestina, che aveva un grande porto in cui alcune navi inglesi stazionavano. L'obiettivo era minore, ma comunque interessante. Purtroppo per la città, però, gli aerei italiani non lo raggiunsero facilmente. I cacci inglesi non gli davano tregua, i bombardieri solo con molta fatica riuscirono ad avvicinarsi all'obiettivo e quando furono nei pressi del porto non riuscirono ad inquadrarlo con precisione. Il risultato fu che le bombe, invece di cadere sul porto, caddero nella zona abitata. E fu un massacro. Anche perché alcune di quelle bombe caddero in una zona in cui un gran numero di persone era in fila per poter acquistare del cherosene, che all'epoca era razionato per poter portare a casa. Il risultato fu un massacro. 130, 128 secondo alcune fonti, 133 secondo altri, diciamo 130 una media, 130 persone vennero uccise nel raid. Donne, uomini, bambini e la zona militare, il porto, ne venne praticamente completamente mancato. Tanto che le bombe devastarono solamente il centro abitato. L'ultimo raid condotto da italiani ci fu a fine settembre. Questa volta gli aerei riuscirono a raggiungere Haifa, ancora una volta disturbati, danneggiarono la raffineria, ma ancora una volta procurarono una quarantina di vittime civili. Certo, non paragonabili alle vittime che i bombardamenti tedeschi stavano procurando in Inghilterra, quelle che i bombardamenti alleati procureranno in Germania e in Italia, ma sicuramente vittime civili che tutto si aspettavano, fuorché di partecipare a una guerra che per loro era molto lontana. In realtà i bombardamenti in questa zona terminarono, perché le difficoltà logistiche erano ormai troppo cresciute, perché i bombardieri italiani servivano altrove, servivano in Nord Africa, servivano in Grecia, perché intanto iniziò, come sapete, la fallimentare, almeno all'inizio, campagna di Grecia, quindi avevano necessità di essere utilizzati altrove. Insomma, lentamente gli italiani persero la possibilità di attaccare queste zone. Saranno i tedeschi, nel giugno del 1941, ad attaccare ancora una volta Haifa, con danni limitati, sganciando peraltro nel loro passaggio anche alcune bombe su Tel Aviv, provocando una quindicina di morti. Non si sa se volutamente, sapendo che la città era una delle sedi principali del sionismo, di quel movimento per il ritorno degli ebrei in Palestina, oppure se per errore. L'ultimo attacco verrà portato contro Haifa, pensate, da Eri della Francia di Vichy. Quando l'Inghilterra deciderà di occupare definitivamente la Siria e il Libano, due Eri della Francia di Vichy attaccheranno e danneggeranno, ultimo attacco, la raffineria di Haifa. Voi però, lo so, siete venuti perché il titolo parla di attacchi all'Arabia, e mi starete dicendo, ma stai parlando di Palestina, stai parlando di Israele, cioè quella che diventerà un giorno Israele? Che cosa c'entra l'Arabia? Beh, in realtà, agli italiani, nonostante le ultime difficoltà nell'attaccare Haifa, era venuta un'idea ancora più grandiosa. Se stava diventando sempre più difficile, infatti, colpire le raffinerie di petrolio ad Haifa, forse si sarebbe potuto organizzare una spedizione ancora più grandiosa, ancora più difficile, per attaccare laddove invece il petrolio veniva direttamente prodotto, cioè in quello che oggi conosciamo come il Bahrain, e che all'epoca era parte del grande impero britannico. Ovviamente colpire in una zona così lontana sarebbe stato difficilissimo, ma soprattutto la strada per arrivarci e poi tornare indietro dal Dodecaneso era troppa, e i Savoia Marchetti non avrebbero mai potuto coprire una distanza così grande, senza contare il fatto che ovviamente gli inglesi avrebbero aspettato i bombardieri nel loro ritorno per intercettarli e distruggerli. Per questo venne messo a punto un piano decisamente più ampio, che prevedeva che gli aerei partissero da Rodi, e volando il più di nascosto possibile, sarebbero stati per questo solamente quattro aerei, raggiungere il Bahrain, sganciare le loro bombe, e quindi voltarsi verso ovest, lo vedete nell'immagine qua a fianco, e tornare verso le colonie nell'Africa orientale italiana, dove si sarebbero potuti fermare. Era un progetto ovviamente molto difficile, perché si sarebbe dovuto coprire una distanza superiore ai 3.000 km, il che rende questo bombardamento uno dei più lunghi, a più lunga distanza che sia mai stato fatto in Europa. Per intenderci, l'attacco di Doolittle contro Tokyo, che è considerato uno degli attacchi più incredibili fatti nella Seconda Guerra Mondiale, ne ho parlato in una vecchia pillola, ve la metto magari in descrizione, quell'attacco copriva una distanza di 4.000 km, in condizioni peraltro ben diverse, anche perché se vi ricordate gli aerei atterrarono praticamente senza più una goccia di carburante. Questo attacco, organizzato e guidato ancora una volta da Ettore Mutti, fu in effetti un successo solamente a metà. Perché? Beh, dal punto di vista prettamente militare, fu in effetti un fallimento. Gli aerei riuscirono a raggiungere il Bahrain, sganciarono le bombe, ma nonostante praticamente non ci fosse difesa, e nonostante i pozzi e le raffinerie fossero illuminati a giorno, dato che nessuno si poteva aspettare un attacco in questa zona, i danni furono molto limitati, e le raffinerie poterono ripartire a lavorare pochi giorni dopo. Gli aerei riuscirono a tutti gli effetti a tornare in Africa orientale italiana, dove, pensate, atterrarono con solo più mezz'ora carburante per mezz'ora di volo, dopo un volo così lungo. Perché però dico che fu comunque un mezzo successo? Beh, perché tutte le fonti, soprattutto quelle inglesi, sono concordi nel dire che dopo questi attacchi, sia quelli su Haifa che quelli in Bahrain, gli inglesi furono costretti a spostare parte delle loro truppe, dei loro aerei, delle loro difese, proprio per difendere questi fondamentali punti di passaggio del petrolio. Zone che fino a quel momento avevano considerato del tutto sicure, e da cui avevano portato via truppe proprio per andare a difendere il Nord Africa. Insomma, se in quel momento gli italiani fossero riusciti a imbastire una grande offensiva in Nord Africa, avrebbero trovato meno truppe e meno aerei inglesi. Tutto questo non successe perché gli italiani si andarono a impantanare in Grecia, ma ovviamente la storia non si fa con i sé e con i ma, ma si fa ogni tanto con l'Ucronia. Insomma, è una storia particolare, su cui ci sono pochissime fonti, devo essere sincero. Peraltro pochissime fonti italiane, si trova molto di più inglesi, e si trovano fonti, dalla parte invece degli attacchi su Haifa e Tel Aviv, da parte israeliana. Anche perché in questo momento a Tel Aviv c'è proprio un monumento che ricorda le vittime di quei bombardamenti. Si trattava di un periodo di guerra veramente molto iniziale, in cui da una parte l'Italia aveva molte più possibilità di operare, perché gli inglesi avevano in effetti molte poche risorse nella zona, dall'altra un periodo in cui i numeri, soprattutto dal punto di vista dei mezzi, erano ancora limitati. E questo permetteva a aerei comunque ottimi come le SM-82, e ad equipaggi addestrati e coraggiosi di riuscire a colpire obiettivi considerati imprendibili. Poi arriveranno ondate di aeree, ondate di materiale, ondate di uomini, e la guerra ovviamente prenderà tutta un'altra direzione, come vi ho già raccontato. Bene, questa pillola, ripeto, è molto limitata, fa un po' a metà con la pillola di ieri, che era anche quella piccolina legata invece a Orbis, e per questo le ho messe vicino. Ma insomma, ci stavano, era tanto tempo che ce l'avevo lì che frullava, e che volevo raccontarvi questo episodio. Se trovate altro materiale su questo episodio, mettetelo nei commenti, mettetelo. Io poi li metto tra i primi commenti, perché purtroppo, vi ripeto, non ho trovato veramente quasi niente su questo. E quello che vi ho raccontato è proprio tutto il materiale che ho trovato. Se trovate altro, mettetelo, perché credo che sarebbe molto interessante. Io mi fermo qua, spero che questa piccola pillola vi sia piaciuta. Nel caso, perché no, iscrivetevi al canale, se non lo siete così potete vedervi le altre, e ricordatevi una cosa importante, cioè di essere curiosi, perché il mondo là fuori è pieno di avvenimenti e storie fantastiche, storie incredibili, che nessuno scrittore, nessun regista, non è la fantasia di metterne le loro opere. E se volete iniziare a curiosare, qua a fianco c'è l'elenco delle pillole di storia. Ci vediamo fra due giorni, questa volta sì, riprendiamo la scansione ogni due giorni, con una nuova pillola di storia. A presto, ciao ciao!